Siamo arrivati a Matsuya, una catena di ristoranti sempre economici che ci sono a Tokyo. Qua ce ne sono già ben tre a Shinjuku. Andiamo a vedere un po' di foto. Questo è il logo. Non ha scritte leggibili, diciamo per noi non giapponesi, ma ricordatevi. Insomma, giallo, questo tondino. È abbastanza semplice da ricordare. È forse il mio preferito. Insomma, sempre la logica del ghiudon con sopra un po' di tutto. Ci sono anche le insalate per i vegetariani. È sempre molto semplice in questa catena, è ordinaria, non vi potete sbagliare. Questo è un ovetto, credo. Sì, un bel ovetto con dei cipollotti. Molto, molto buono. E niente. Nell'euro di punta forse sarà un po' pieno da pranzo, perché è molto amato dai giapponesi, dai salari man. C'è anche birra, insomma, masachi di buon livello. Queste delle belle verdurine saltate in padella, con carne. E come vedete il prezzo è 680 yen, 5 euro. Questo figo cos'è? Vediamo. Tipo pentola di fuoco, come dicono gli cinesi. Niente, buon appetito. Come vedete!